Dieci anni fa moriva a Erba Marisa Pizzamiglio, fondatrice con il marito architetto Claudio Benaglia dell'Associazione Solidarietà Kenya Onlus e del Tabasamu Center a Magengo in Kenya. Per pregare sulla tomba della moglie e per ricordare questo triste anniversario, il marito Claudio è tornato a Erba. Architetto, cosa ricorda di quel 27 luglio di dieci anni fa? È stato un momento veramente commovente. Marisa purtroppo in due settimane, si può dire, ha manifestato i sintomi del virus di cui è stata colpita e dopo una settimana di presenza in ospedale a Mombasa, non riuscendo a trovare una cura adatta, abbiamo organizzato un'aereoambulanza. Ma purtroppo, come il referto dopo la morte ci ha spiegato, non c'era cura per poter guarire. Quindi questo è un momento doloroso, è riaffiorato a maggior ragione in questo momento dopo i dieci anni della sua scomparsa. In questi dieci anni Marisa è stata vicina a lei o no? Guardi, Marisa è sempre presente al Tabasamu Center, la viviamo insieme e ci sono quadri che la rappresentano ovunque, dall'ufficio al Salone 20, dappertutto. Da parte mia è un'ispirazione, quindi la sua presenza è giornaliera, non facciamo niente senza di lei, senza pensare, ma Marisa gli piacerà questo che stiamo prendendo come decisione. Capito? Quindi è molto presente e oltre a essere stato dedicato al centro, a lei partecipa spiritualmente alle nostre scelte. Quando pensiamo a Marisa non possiamo non pensare alla parabola evangelica del piccolo seme che muore e dà frutto. Quel seme ha dato il centro del sorriso, il Tabasamu Center appunto che vuol dire centro del sorriso. Una cittadella che ospita sui 500-600 bambini e che lei Claudio ancora porta avanti. Certamente la mia presenza costante al Tabasamu Center ha proprio significato in memoria di Marisa di portare avanti il suo sogno per il quale ha perso la vita e quindi siamo riusciti in questi dieci anni a ingrandire di molto il Tabasamu Center e grazie alla generosità degli italiani abbiamo un centro completo sia nell'assistenza sanitaria che nell'istruzione, che negli eventi sportivi e altri eventi collaterali. Lei pensava che questa morte di Marisa potesse dare questi frutti? Assolutamente, incredibile. Incredibile perché io posso dire che Marisa ha fatto più da morta che da viva nel senso che grazie al fatto, alla sua dipartita e al significato che siamo riusciti a dare alla sua dipartita molti italiani ci hanno e ci stanno aiutando nella realizzazione e nello sviluppo del Tabasamu Center. Per ricordare Marisa, quali eventi avete organizzato qui a Erba? E sicuramente credo che anche giù in Kenya ci saranno alcuni eventi nei prossimi giorni. Certamente, la mia presenza qui nel mese di luglio è proprio per l'anniversario, per la celebrazione, la commemorazione dei dieci anni perché il 27 luglio del 2014 è mancata Marisa. E qui abbiamo organizzato una preghiera alla tomba, al cemitero di Arcellasco. Abbiamo organizzato una santa messa proprio questa mattina. Ci siamo recati a Cantù e ha celebrato Don Giovanni Afker che era il nostro prevostro di Erba e anche il padre spirituale di Marisa col quale si confidava sempre anche con email nel corso della nostra permanenza in Kenya. E poi un altro evento che è già accaduto, il 12 venerdì 12 luglio, un evento solidale con la partecipazione di oltre 80 benefattori, amici e nostri follower. e abbiamo organizzato questa cena solidale che sta contribuendo con raccolta fondi ad aiutarci. Sappiamo che giù in Kenya, al Tabassamo Center, state realizzando un dormitorio per i bambini, per poter ospitare anche durante la notte i bambini. A che punto è? Certamente. È stata un'iniziativa, un'idea che mi è nata nel 2021 e che adesso stiamo cercando di concretizzare. In pratica noi abbiamo la presenza di un certo numero di orfani e in particolar modo della ultima classe del ciclo scolastico per una preparazione agli esami. Per cui abbiamo iniziato a ospitare questi alunni in un contesto non perfetto come potrebbe un dormitorio offrire. Quindi in una sorta di ripiego stiamo usando delle aule affinché dare la possibilità di dormire. E quindi a questi ragazzi... Sì, perché molti abitano lontano e non possono tornare tutte le sere al loro villaggio. Infatti anche per questo certamente abbiamo un pulmino che fa questo tipo di servizio. Ma è chiaro che sia per gli orfani sia per una preparazione a livello di campus in cui la presenza è costante 24 ore al giorno per tutta la settimana offriamo delle lezioni prima delle normali lezioni scolastiche e dopo le ore 16 del pomeriggio quando chiude la scuola rimangono con dei tutor, dei maestri che contribuiscono a migliorare la preparazione per gli esami che devono sostenere di fine ciclo come per noi qui alla terza media quando finiscono il ciclo ci sono gli esami prima di andare al liceo. Ma questa cittadella della Sorriso cosa ha bisogno soprattutto in questo momento? Bene, noi quello che abbiamo assolutamente bisogno è completare una raccolta fondi per la realizzazione del dormitorio. Abbiamo già superato di poco la metà però abbiamo bisogno ancora di questo 40-45% della montare che ci serve e poi nei costi che noi dobbiamo sostenere diciamo che i costi del cibo hanno assunto una rilevanza non indifferente con l'incremento dei costi, dell'inflazione che esiste nel paese Kenya e quindi... Dovuti anche alla guerra, alle tante guerre. Certo, soprattutto la guerra in Ucraina ci ha massacrato perché il mais è cresciuto di molto, l'olio in particolar modo ancora sono triplicati i prezzi e quindi ecco la necessità sempre di dover avere dei benefattori che ci sostengano e che ci consentano di portare avanti il nostro lavoro solidale. Tanti auguri anche da parte degli amici di Televalassina che vi segue sempre, segue Alberto che è il punto di riferimento qui in Italia e segue anche lei giù in Kenya. Grazie di cuore a tutti voi, a Televalassina, ai vostri ascoltatori, ai vostri follower io confido sempre nella generosità di italiani che in ogni momento confermo esiste una grande solidarietà e quindi vi ringrazio sempre per consentirci di continuare il nostro cammino in memoria di Marisa. Voi avete amici non soltanto qui a Erba ma in giro per tutta Italia, vero? Certamente, per esempio pochi giorni fa è stato realizzato un evento a Napoli dove abbiamo un gruppo di sostenitori e di amici per una raccolta fondi con una cena solidale proprio per la costruzione del dormitorio.